È un progetto nato proprio dalle esigenze di conciliazione di 15 donne che volevano trovare una soluzione ai loro problemi di lavoro, di famiglia, di accudimento soprattutto dei figli. Per cui si sono avvicinate al progetto TagSmoother che è un servizio che è nato in Nord Europa moltissimi anni fa e che in Italia c'è in Trentino da una quindicina d'anni, in Trentino Alto Adige e quindi ha portato in città questa esperienza. È un'esperienza che si rivolge all'accoglienza e alla cura dei bambini dagli 0 ai 12 anni e ha la caratteristica della flessibilità, è un servizio veramente di conciliazione per le donne e le famiglie che hanno bisogno di un'assistenza particolare dei propri figli. Quindi il servizio è aperto tutto l'anno, non c'è una calendarizzazione, non c'è un orario di entrata e di uscita ma viene concordato con la famiglia proprio perché consapevoli delle necessità delle donne, del mondo del lavoro che è cambiato, delle dinamiche lavorative molto complesse vogliamo venire incontro a tutte le donne e gli uomini che hanno questa esigenza.